Cioè cercare il meno peggio delle soluzioni che comunque impoverivano e quello dal mio punto di vista è una di quelle cose dove tu vorresti tantissimo fare il meglio però ti viene richiesto di fare una cosa diversa. Per mille motivazioni a volte sono motivazioni tecniche non ci sta non possiamo dirlo non è la traduzione letterale non funziona eccetera a volte è non hai capito niente del target uomo che metti i soldi però io voglio i tuoi soldi no e soprattutto a un certo punto il prodotto va portato a termine il lavoro sa da fare e quindi si cerca diventi il corpo diplomatico di te stesso e cerchi la soluzione che fa meno danni da tutte le parti.